Mister Capuano, è la vigilia delle vigili in fondo, perché questa partita darà il risultato finale se questo Taranto riuscirà a qualificarsi per questi play-off, che sarebbe una gioia davvero per tutta Taranto e non solo. Secondo me il difficile non sarà giocarla la partita domani, il difficile sarà arrivare a questa partita. Cioè per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, che va al di là della soddisfazione, perché era impensabile che noi domani potessimo rincorrere un sogno che a Taranto manca da 13 anni, quindi è normale che c'è anche un momento di attesa, un momento di tensione, un momento di emozione. Sicuramente era impensabile che ci fossimo salvati matematicamente a due giornate dalla fine e domani cercheremo di coronare un sogno, giocando una partita con tranquillità, ma nello stesso tempo carichi a mille, con un senso di responsabilità altissimo, anche perché è una partita difficilissima. Il Messina è una squadra che voglio ricordare a tutti che nel gioco di ritorno ha fatto 29 punti, quindi ha fatto numeri impressionanti, ha fatto un mercato di gennaio sontuoso con tanti giocatori che fino a qualche mese fa giocavano in A e B e viene qui a giocarsi la salvezza, viene qui con un unico obiettivo, quello di vincere, che addirittura potrebbe anche non bastare. Quindi è una partita difficilissima, sicuramente è una partita intensa, bella da vedere. Lei è abituato a queste sfide, ma i suoi ragazzi come ci arrivano, come stanno arrivando a questa partita? Con estrema tranquillità. Non guardiamo indietro, la squadra ci arriva con la giusta tensione, motivatissima, cercando di coronare un anno meraviglioso.